La Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani è da sempre impegnata a creare una rete di opportunità tra e per i soci attraverso le sue iniziative. La BCC si definisce anche la Banca dei Giovani perché ha un occhio di riguardo per la compagine sociale Under 35, attraverso il suo club Giovani Soci e per la sua volontà di seguirli nelle loro prime esperienze lavorative da piccoli imprenditori del territorio. L'impresa che stavolta ci ha aperto le sue porte è una start-up appena avviata, un negozio di animali e tolettatura di Agropoli, Animal Planet, nato dall'amore di Lucia Benincase e Antonio Ricchio, due giovanissimi fidanzati che dopo il diploma decidono di seguire la loro passione comune per gli animali. L'idea è partita da una volontà di lavorare insieme, quindi partendo da questo presupposto e poi grazie anche alla passione che abbiamo per gli animali, che abbiamo coltivato negli anni, avendo anche degli animali domestici. Siete partiti da zero completamente? Ma la difficoltà, devo dire la verità, è che non ce ne sono state grossissime, a parte la solita burocrazia che abbiamo qui in Italia. Ma poi per il resto siamo andati abbastanza lisci e veloci. Ho seguito un corso di formazione con un attestato che mi è stato rilasciato e devo dire che i nostri clienti sono abbastanza soddisfatti del lavoro che gli offriamo. Giovani come impresa? Sì, siamo partiti nel mese di marzo dello scorso anno. Come sta andando? Devo dire bene, siamo abbastanza soddisfatti. Nell'inizio è sempre un po' duro inserirsi, però ci facciamo coraggio. Cosa consiglieresti quindi ad un giovane di non lasciare magari il proprio territorio, ma tentare la fortuna qui? Avendo anche un territorio che ci invidiano, penso, in moltissimi, a volte siamo costretti purtroppo ad andare via. Però bisogna essere tenaci e cercare di non mollare, cercare di realizzarci e restare qui, che la nostra terra è bellissima. Ti è stata vicina anche la BCC dei Comuni Cilentani in questa tua impresa. Quanto conta avere una banca come questa al tuo fianco? Molto, è molto importante avere un così grande punto di riferimento, perché soprattutto per noi che siamo giovani e adesso avviandoci in questo nuovo cammino, è importante avere delle persone che possano accompagnarti nei momenti delicati. Come ti hanno aiutato in particolare? La disponibilità è sempre il loro punto di forza, quindi cordialità e disponibilità prima di tutto. Poi ci sono anche molti dipendenti della BCC che sono anche amici, quindi... C'è anche uno stesso rapporto personale. Esatto, esatto, esatto.